C'è una cosa che non abbiamo fatto oggi. E quale sarà mai questa cosa? Niente. Niente? Christopher Robin, cos'è che vuol dire esattamente non fare niente? Beh, mi hanno detto che vuol dire andare a zonzo, ascoltare tutte le cose che non puoi sentire e naturalmente non annoiarsi. Sì, è come quando ti dicono cosa state facendo voi due e tu rispondi, oh, niente, ed è quello che facciamo. È una specie del niente che stiamo facendo in questo momento. Vorrei che durasse così per sempre. Beh, allora dobbiamo farlo di nuovo domani e anche il domani dopo e il domani dopo ancora. Pu, senti, e se per caso è come ti che un giorno arriva un domani in cui noi siamo lontani? Fintanto che saremo lontani insieme, staremo sicuramente benissimo. Sì, sì, certamente, ma se non fossimo insieme, se io fossi da qualche altra parte... Oh, ma questo non è possibile, perché io sarei completamente perduto senza di te. Chi chiamerei in aiuto... Oh, quei giorni in cui, ad esempio, non sono abbastanza forte. Oh, 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 abbastanza coraggioso. Beh, ecco, veramente... E poi, a chi potrei chiedere consiglio, quando non so da quale parte andare? Oh, noi? Noi? Noi semplicemente non saremmo più noi. Se mai ci sarà un domani, in cui non saremo insieme, c'è una cosa che devi assolutamente ricordare. E quale sarà mai questa cosa, Christopher Robin? Che sei più coraggioso di quello che credi, e più forte di quello che sembri, e più intelligente di quello che pensi. Oh, ma è facile! Più coraggiosi di un'ape noi siamo, più alti di un albero lontano, e più forti di una pulce. Oh, forse si trattava di un alce. No, sciocco di un orsetto. Tu sei più coraggioso di quello che credi, e più forte di quello che sembri, e più intelligente di quello che pensi. Ma la cosa più importante è che anche se noi saremo lontani io sarò sempre con te io sarò sempre con te io sarò sempre con te